Eccoci tornati per la terza parte di zona gol, parte conclusiva che iniziamo guardando anche la classifica della prima categoria Girone C, insomma signorini e sette soldi intanto si distraggono, ricordano i bei tempi andati, ovviamente quelle categorie lì, prima categoria non la vogliono neanche più vedere, perché tra l'altro insomma in prima categoria nel Girone C c'è un'ex squadra di Cristiano, le Piagge che sono a 41 punti, provano a rientrare nel gruppo, nel novero delle squadre che possono lottare per la vittoria finale. Ora magari hanno perso ieri quindi può essere stata una sconfitta decisiva per la prima posizione, però sicuramente i playoff penso li facciano e magari andare a giocare alle Piagge nei playoff. Non è mai segno. Io invece sono per il Ponta al Seve, ho giocato due anni a Ponta al Seve, spero che ritorni a fare quelle categorie per le quali erano abituati, insomma ecco, gli auguro proprio di vincere il campionato. Il Ponta al Seve che insomma ha avuto un percorso particolare in questo campionato, è partito molto lentamente, poi la squadra ha trovato sicuramente più certezze e adesso è a lottare per il campionato proprio con il Sagginale. Abbiamo visto la classifica di prima categoria, ma come sapete insomma sia un po' per motivi di nascita, sia un po' per passione calcistica, non posso che andare a parlare di seconda categoria e del mio Barberino. Insomma ho rotto le scatole almeno per due anni sul Barberino perché insomma tutte le volte vi do l'aggiornamento quasi fosse un necrologio e adesso poi ne andiamo a parlare. Sono stato subito cattivo, lo di Londi già insomma si preoccupa. Perché appunto il Barberino è in grande difficoltà per quanto riguarda questo cammino in questa stagione di seconda categoria. Innanzitutto ricordiamo il Dicomano in testa con 51 punti, direi Londi. Ormai per quanto riguarda la vittoria del campionato. Credo che sia quasi deciso ormai. Il Dicomano di Cipollone avanti. Esatto, per vincere il campionato. Quindi ormai credo sia deciso. Che squadra è il Dicomano? È una buona squadra, molto compatta, ben organizzata, con delle ottime individualità. Quindi mi è sembrata una delle migliori, se non la migliore squadra del campionato. In questo girone c'è anche la Rondinella Marzocco, Rondinella o comunque Renata sotto più nomi. Oggi si trova in seconda categoria. Vedi una progettualità nel loro cammino? Pensi che un giorno questa Rondinella potrà, non ti dico tornare in Serie C come ai tempi d'oro, ma potrà tornare a frequentare categorie un po' più importanti rispetto alla seconda? Sinceramente lo spero, perché comunque su Firenze è sempre stata una società storica. Poi vincere, come dicevano i mister, non è mai semplice. Quest'anno a trovare il Dicomano con una grossa forza. Sicuramente faranno i play-off, quindi avranno l'occasione per salire e fare un altro gradino. Perché poi alla fine i campionati sempre più importanti ti danno sempre più lustro e ti danno sempre più opportunità di crescere e di tornare ad essere la realtà che era la Rondinella qualche decennio fa, ora gli anni passano. Eh sì, adesso stanno passando gli anni. Passano anche per il Belverino però, perché insomma era una squadra sicuramente gloriosa, ha fatto Serie D, eccellenza. Poi un capitobolo, diciamo così, che ha portato la squadra fino alla terza categoria. Adesso siamo al penultimo livello del calcio con questa seconda categoria. Io non posso che prendere spunto dalle parole di Giampiero Boniperti, anche se poi in realtà penso sia stato lo stesso Boniperti a citare Vince Lombardi, su vincere è l'unica cosa che conta. Insomma, sei anche marchiato Juve, diciamo, tra virgolette. Perché sto Barberino non vince? Beh, le tematiche sono tante, non è mai facile capire perché non riesci ad ottenere il risultato pieno, perché noi comunque, ne parlavamo precedentemente, abbiamo perso quanto ha perso la seconda o la terza in classifica, per esempio le sconfitte. Però abbiamo difficoltà a vincere, probabilmente sono tante le componenti, magari la componente mentale, la componente appunto dell'aspetto mentale è quella che in questo momento incide di più, perché molto probabilmente andiamo in vantaggio e abbiamo difficoltà a portare alla fine il risultato pieno. Abbiamo però tantissima forza, tantissima determinazione, magari quando andiamo invece in svantaggio abbiamo la forza per poter reagire. 11 pareggi stagionali, hai un po' paura di essere chiamato Mister X tra un po'. Ma sai, lo dicevamo prima, la responsabilità è sempre dei tecnici, l'anno scorso abbiamo vinto e perso e pareggiavamo praticamente mai, quest'anno pareggiamo, io sono sempre lo stesso, vivo il calcio sempre nello stesso modo, e quindi le stagioni sono così. Sicuramente non mi fa paura se mi chiamano Mister X, non mi creo assolutamente problemi. Senti, io ovviamente anche scherzando, giocando anche sul fatto di essere tifoso del Barberino, spesso ho fatto anche dichiarazioni che vanno un po' al di là del mio ruolo di conduttore, dicendo l'ora di una svolta, giocando un po' anche su quello che è il calcio che vediamo in televisione, quello dei professionisti, avevo detto che l'Ondi sarà alla fine del suo percorso a Barberino, invece poi tutte le volte sei riuscito a ottenere la salvezza e a rilanciarti verso un campionato che si sperava fosse migliore. Tu hai visto nel corso di questa tua esperienza un miglioramento a Barberino per quanto riguarda la rosa della prima squadra o comunque per quanto riguarda i valori della prima squadra? Ripeto che è giusto che poi alla fine sia l'allenatore il responsabile, è responsabile quando vince ed è anche responsabile quando perde, per cui per me va benissimo. Quindi posso continuare a dire che voglio la testa di l'Ondi su un piatto d'argento? Ma senza problemi, sto scherzando ovviamente. È comunque stimolante, perché l'allenatore deve saper reagire a certe situazioni. Per quanto riguarda la situazione invece che mi chiedevi del Barberino e della realtà di Barberino, la società è sempre stata chiara, cioè si inizia il campionato, gli investimenti risolte sono queste, pochissime, vogliamo cercare di riportare su Barberino una realtà giovanile e che viene dal paese e su quelli cercare di creare un qualcosa. Ovvio che non si ottiene in un anno, ci vogliono anni, ci vuole tempo, ci vuole una progettualità e sicuramente la società in questi ultimi anni sta cercando di mettere giù qualcosa. Non è facile, in questo momento non ci sono risultati, quindi le mie parole probabilmente cadono nel niente, però io mi rendo conto che comunque la società ha voglia di fare. Ci vuole ovviamente tempo, ci vuole lavoro, ci vuole pazienza e calma e speriamo che nei prossimi anni comunque riusciamo a dare continuità a quello che è stato fatto in questi ultimi due o tre anni. Prendo a spunto dalle tue parole, vado a parlare anche del settore giovanile del Barberino, perché insomma abbiamo detto che per la prima squadra ci sono pochissime risorse, questo l'abbiamo capito. Per il settore giovanile invece questa nuova società sembra aver voluto, tra virgolette, investire, comunque credere molto sulla formazione dei giovani. Entro subito a gamba tesa con Ettore Lastrucci che appunto gestisce un po' anche il settore giovanile e ti chiedo, Ettore, è possibile costruire un settore giovanile, non ti dico d'elite, anche se poi il termine per l'altro andrebbe utilizzato nel giusto modo, perché sappiamo che esistano le scuole di calcio, le scuole calcio elite e hanno proprio un significato ben specifico, però è possibile costruire un settore giovanile di primo livello a Barberino o comunque in Mugello? Io penso che quando la nuova società abbia preso in mano il Barberino nel 2012, l'obiettivo primario era ripartire comunque la squadra acida al settore giovanile, gli investimenti, comunque le risorse abbiamo, cerchiamo di indirizzarle verso quel settore lì. Quindi piano piano io penso che questo possa dar frutto comunque a giocatori e ragazzi del posto per andare a formare delle rose delle prime squadre. Ora, prima si parlava di Serie D, ho detto magari col bacino di Borgo, più semplice fare un'eccellenza, però avrebbe comunque bisogno di altri ragazzi, io penso che fare una seconda categoria. In prospettiva, anche una prima categoria con ragazzi del posto si può fare, lavorando bene già sul settore giovanile. Non è facile, ora parlando di elite, noi abbiamo ottenuto la qualifica di scuola calcio rinorciosa, non di elite, quindi certi revisiti già siamo riusciti ad ottenerli, però piano piano cercano di migliorarci magari di arrivare a quel livello lì. Non è semplice come in realtà perché comunque il bacino è piccolo, abbiamo realtà magari fiorentine più strutturate, con un'organizzazione diversa e quindi non è mai facile ottenere anche i ragazzi. Quindi il lavoro deve essere fatto bene dal basso per poi portarli in alto. Perché il discorso che, poi insomma allargo la discussione anche a Simone e Cristiano, non vi lascio lì insomma a portare semplicemente la giacca e la camicia, però il discorso è questo, fatto anche con Ettore, magari quando io gli offro qualcosa da bere perché se no lui non parla. Ci sono società che fanno il lavoro sul settore giovanile da più tempo magari del Barberino, con istruttori magari anche più qualificati senza togliere nulla agli istruttori che sicuramente sono molto bravi del Barberino e soprattutto lo fanno su un bacino d'utenza molto più grande. Quindi è un po' una lotta contro i mulini a vento, secondo voi costruire un settore giovanile in un paese comunque abbastanza piccolo come Barberino? Ma io penso di no perché comunque, come dicevano giustamente loro, se le cose le fai bene, ti organizzi, cerchi di indirizzare tutti gli sforzi in quello che può essere una struttura, un'organizzazione, quindi cerchi di centrinare tutti quelli e solo i passaggi, io credo sia possibile farla anche a Barberino. Io vedo poi a Montepulio c'è un bacino d'utenza più importante, ma insomma è già da tempi che il nostro settore giovanile c'ha le squadre in elite, c'ha le regioni di verito, quindi hanno sempre lavorato bene in quest'ottica qua e anche se il bacino d'utenza è più grande ma lo possa fare anche a Barberino o da altre parti. Per quanto riguarda Cristiano, Cristiano tu sei il capofila del movimento Audax Rufina con la tua prima squadra ovviamente, però l'Audax Rufina è paragonabile come società al Barberino quantomeno è una rivale del Barberino spesso nelle categorie giovanili perché poi vanno a fare spesso lo stesso campionato queste due realtà per quanto riguarda ovviamente il settore giovanile. Ti chiedo come vivi tu il movimento giovanile a Rufina? Non è che lo vivo, sento parlare e secondo me da quando c'è la nuova società anche lì alla Rufina hanno intrapreso un percorso importante per quanto riguarda il settore giovanile perché credo prima non avessero quasi più niente invece negli ultimi 5-6 anni è stato ricostruito un po' tutto il settore giovanile. Chiaramente le problematiche ci sono non è facile vincere campionati nel senso per prendere le categorie regionali piuttosto che elite eventualmente però è un lavoro che ci vuole tempo, ci vuole pazienza ci vuole tempo e pazienza e tante volte dopo 2-3-4 anni buttano tutta l'aria perché non lo so, perché si sono rotte le scatole e quello chiaramente poi tocca sempre ripartire da capo la cosa fondamentale è che ci vuole tempo e pazienza per lavorare sui giovani perché il lavoro viene visto a lungo termine non è certamente un lavoro a medio-breve termine. Capito Ettore, l'Undi aspetta che gli fai arrivare un giocatore che gli fa fare il salto di buonità Lunga, speriamo arrivi presto Spera, spera Fra l'altro Rudy so che anche tu hai il tuo ruolo all'interno di questa parte della società che è dedicata al settore giovanile quindi ti chiedo anche di raccontarci la tua esperienza visto che so che è più ricca semplicemente di Barberino ma appunto tu proprio con la Juve lavori sui giovani Io lavoro da alcuni anni con Juventus e mi occupo principalmente della formazione dei settori giovanili sia dal punto di vista dei tecnici che lavorano con i giovani che dei giovani Quindi porti anche queste esperienze poi mi immagino nella tua quotidianità Sì, cerchi di portare la tua esperienza nella quotidianità non è la stessa cosa non è la stessa cosa e non è semplicissimo comunque le realtà sono un po' diverse però girando tanto per l'Italia vivendo anche la realtà professionista di Juventus tante persone hanno voglia di fare e quindi di cambiare il mondo giovanile però poi dietro tante parole ci vuole sempre i fatti ci vuole persone competenti persone che hanno voglia di lavorare con passione per i giovani e quello che dicevo all'inizio che giovanissimi, allievi sono categorie che vengono vissute con troppa competizione la competizione va a discapito di quella che è la formazione dovrebbero arrivare agli allenatori di prima squadra ragazzi già formati da tutti i punti di vista tecnico, tattico ma anche comportamentale questo in Italia ultimamente ce lo siamo un po' dimenticato e quindi dobbiamo cercare con calma con tempo la parte comportamentale c'ha migrato anche a livello proprio poi scusami Cristiano però insomma ho in mente fulgidi esempi di grandi giocatori italiani che poi non si sono imposti nelle ultime annate proprio perché con la testa non ci stavano l'ultimo penso l'emblema sia Mario Balotelli però insomma se ne può parlare di altri Cristiano scusami no no dicevo quello che dice il mister è giusto cioè il problema è che secondo me magari in tante realtà l'allenatore lo fa a quello che ha tempo cioè nel senso piuttosto c'è un lavoro che lavora la mattina e il pomeriggio va a allenare il postino piuttosto che il macellare ma con tutto rispetto perché spesso è così l'allenatore magari è anche più preparato non allena perché magari vuole anche i 100 euro in più e quindi allena quello che prende meno e chiaramente se uno non ha le competenze per poter insegnare a calciare a un ragazzino e quel ragazzino viene con i difetti e arriva in prima squadra e non sa calciare o non sa marcare o non sa o non sa temporeggiare o non lo so a livello tecnico ha delle lacune perché la formazione che ha avuto nei settori giovanili in gran parte di questi settori giovanili è stata fatta da persone che secondo me non sono competenti cioè non è che mi vergogna a dirlo Cosa vi manca Simone ai giovani della Serie B in particolar modo? Cosa vi manca Raffaele? Che quello che stavano dicendo loro gli manca questo perché poi dopo parecchi sono potenziali erano potenziali giocatori veri talenti che poi si perdono perché logicamente o non hanno la mentalità o non hanno il carattere o comunque a livello proprio mentale non riescono a essere pronti per fare le partite e quindi poi dopo credo che tutto il percorso che diceva loro forse non hanno avuto anche a livello di squadre professionisti torniamo in conclusione a parlare di seconda categoria insomma ci stacchiamo dall'argomento giovani affrontato penso anche con con le persone giuste tra virgolette perché insomma abbiamo davvero tutta la trafila qua davanti dal mister di serie D fino a il responsabile della scuola calcio torniamo a parlare di serie D perché di seconda categoria scusate è tardi anche per me di seconda categoria perché mister nella fine settimana 1 a 1 con l'onda per il tuo Barberino da tifoso feroce occasione sprecata è occasione sprecata ne parlavamo prima siamo andati in vantaggio e poi un po' di paura un po' di difficoltà abbiamo ingenualmente preso un rigore l'uno pari abbiamo avuto l'occasione per riuscire a vincere comunque a 2-3 minuti dalla fine con un rigore al nostro vantaggio però non siamo riusciti a realizzarlo però io rimango molto fiducioso e convinto e comunque abbiamo forza e convinzione per riuscire a salvarsi che è quello l'obiettivo certo la salvezza ormai è quella che dobbiamo cercare di raggiungere non ci si fa a fare un pochino di più a salvarci un pochino più tranquilli dobbiamo essere realisti mancano 7 partite alla fine tornato a Gresti fra l'altro è stato il tuo bomber della scorsa stagione ha iniziato due mesi dall'inizio gennaio abbiamo 7 partite da fare cerchiamo di fare possibile partita per partita alla fine delle 7 partite vediamo dove siamo e valutiamo Ettore non lo fai giocare ripartiremo mi tranquillizzi che non lo fai giocare se ci vogliamo salvare se vuoi stare tranquillo per il momento si riposa allora io riparto per l'ultimo giro di considerazioni proprio da Ettore e la Strucci è un po' un classico degli ultimi minuti di zona gol andiamo a tracciare insieme gli obiettivi da questo lunedì in genere partiamo dal martedì ma insomma da questo lunedì per il vostro lavoro quindi Ettore da dove riparti dal lunedì 29 febbraio a un futuro cosa ci dobbiamo aspettare per Ettore a Strucci e per il suo lavoro noi cerchiamo di finire tutti i campionati in giovanile in migliori modi ovviamente con sintesi Ettore sì sì il risultato non viene sempre però comunque anche gli istruttori e tutto lo staff non chiediamo solo quello chiediamo i ragazzi si divertono in campo e anche tutte le famiglie ci seguono e sono contento di tutto lo staff e anche dei dirigenti quindi penso l'obiettivo finale è che tutti i ragazzi anche il prossimo anno possano stare in nostra società e quindi ripartire da loro e continuare questa programmazione Rudy Londi oltre a chiedere a Franco Manzani di essere Barberino un colpo da svariati in milioni di euro cosa chiede? No dai salvezza il prima possibile e poi in futuro vediamo vediamo quello che succederà per i prossimi anni Mister del Barberino anche nella prossima stagione? Vediamo vedremo passaparola passaparola andiamo da Cristiano Cristiano tu cosa chiedi alla fine di questo campionato? è di finire bene dai nel senso però come dicevo prima pensiamo a domenica di cercare di partire difficile Castelnuovo si prova a vincere non sarà facile però insomma ce la metteremo tutta l'ultima cosa mi piace come ragionano loro soprattutto per il settore giovanile secondo me non è stata sempre una mia idea nelle società dove sono stato l'ho sempre portato avanti si guarda molto spesso il risultato a scapito della formazione dei giocatori secondo me bisognerebbe guardare un pochino più la formazione e un pochino meno il risultato ti ha insegnato bene Piero Braglia a signorini Piero Braglia che è stato il vostro allenato nel 90-91 eri su pupillo eri su pupillo era il cocco il cocco di Braglia che insomma è importante invece sette soldi abbiamo un po' capito cosa vorresti per domani dobbiamo avvertire la tendenza perché comunque febbraio finisce oggi spero che marzo sia in mese come era stato per quegli precedenti anche per me sicuramente non solo per te sicuramente qualcosa più bisogna farlo perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi forse non è bastato e quindi unità di intenti e rimboccarsi le mani e ripartire per arrivare quantomeno a fare queste prove sarebbe un grande risultato per il Jolly Montemurlo credo storico e noi ve lo auguriamo ovviamente vi continueremo a seguire un grazie a Simone Settesoldi mister del Jolly Montemurlo grazie a voi a Cristiano Signorini mister dell'Audax Rufina grazie a Rudy Londi mister dello Spartacobandi Parberino e al mio amico Ettore Lastrucci responsabile come ti devo responsabile scolaccio mi fa sempre un po' effetto dire che tu sei responsabile comunque chiudiamo così chiudiamo così con un po' di incertezza ovviamente torneremo martedì la prossima settimana spero che vi siate divertiti a stare in nostra compagnia e che abbiate potuto almeno girare ogni tanto mentre guardavate la partita della Fiorentina anche sul 96 del Digitale Terrestre dove settimana prossima torna Zona Gol arrivederci avversi Grazie a tutti.